Dopo la sconfitta a Casalinga di domenica scorsa contro la neopromossa Sulmona, l'Isernia è chiamata subito a dover cambiare marcia e cominciare a far punti. Compito non facilissimo perché il calendario ha messo sulla strada dei molisani una squadra forte che vuole stupire tutti, il Giulianova. Molta gente conosciuta in Molise tra le fila degli abruzzesi, a partire dal DS Enzo Aiano, grande ex visto che l'anno scorso ricopriva la stessa carica proprio nella società isernina guidata da Monfreda. Ma non solo perché in campo potranno contare su un pacchetto difensivo solidissimo guidato dall'ex Serie A di Sampdoria, Palermo e Lecce, Morris Carrozzieri. Ed in attacco ci sono un molisano doc come Vittorio Esposito Funambolo di San Martino in Pensilis ed uno che conosciamo molto bene, ex Trivento e Isernia Luigi Palumbo. Dal canto suo la squadra molisana deve invertire la rotta perché con la sconfitta in campionato sono venute fuori un po' di problemi e da farne le spese è stato il capitano Nicola Panico. La società ha deciso di fare a meno dei suoi servizi girandolo ad un'altra molisana, cioè il Boiano. Domenica intanto c'è la trasversa abruzzese ed il mister dei bianco celesti Renna intende schierare gli stessi undici che hanno perso all'Ancellotta con sole due novità. La prima riguarda la difesa in cui Cavallini sostituirà lo squalificato Cagliazza e la seconda in attacco in cui Rima sostituirà l'ormai ex Panico. La formazione dovrebbe essere con il 4-3-1-2 con Fantasia tra i pali, difesa composta da Cavallini, Duello, Maresca e Pepe. Centrocampo con Foglia, Spasiano e Vitiello. Tufano libero di svariare dietro le due punte. Rima è noto. L'arbitro dell'incontro che si gioca allo stadio Rubens Fadini di Giulianova con inizio alle ore 15 sarà il pistoiese Francesco Maraviglia coadiuvato da Massimiliano Burgassi e Francesco Santi entrambi di Prato.